Non è tanto alternativo il modello, ormai è un modello che si percebe da molte parti. Il sviluppo sostenibile dello stretto è nel suo paesaggio, è nella capacità di investire intanto sul risanamento del territorio, non si fa niente. Poi sulla riqualificazione del paesaggio, poi di fare diventare, mettere a frutto tutta la cultura, l'arte, l'energia, la storia, le tradizioni dell'ospedale, attraverso degli investimenti mirati che già il POR in qualche modo prevede di fare sullo stretto di Messina. Il problema dei trasporti, l'ha spiegato il professore Gattuso, quando nell'era industriale, nella modernità, lo stretto era il punto più vicino alla Sicilia e per le tecnologie che c'erano sembrava si dovesse andare da lì in Sicilia. Adesso i passeggeri non passano più da Villa di Messina per andare da Berlino a Palermo o da Firenze a Catania. Io stesso quando devo andare da Firenze perché insegno lì, piuttosto che in Calabria, venire a Palermo a Catania mi viene quasi più facile perché ci sono molto più chance di volerlo uso. Le merci vanno sempre più via mare, teniamo conto che nella Sicilia c'è 12 porti industriali, che per l'industria non funzionano più e diventano i terminali naturali delle autostrade del mare per le persone. A noi resta da muoverci nell'area dello stretto e lì bisogna fare un'autority per i trasporti che gestisca questi barca bus che devono funzionare tra Villa, Reggio e Messina. C'è una vera metropolitana del mare, non quella che ho preso io stamattina con una corsa saltata e con il ritorno per cui bisogna aspettare le tre da mezzogiorno. Ma funziona 24 ore su 24 facendo il giro. E qua il limitato traffico, il traffico soprattutto locale, che è quello che interessa, verrà abbondantemente assorbito. Il problema però è che i trasporti non è più un settore di sviluppo dello sfera. Bisogna investire tutto quello che è legato al territorio e al paesaggio, alla riqualificazione della città. Questa sì che è una grande opera, creando strutture occupazionali e produttive all'opera. Non per nulla il porro è già incentiva cooperative che si occupano di turismo culturale, di turismo sociale, di informazione, molto importante costruire tutto il sistema high-tech di informazione e comunicazione sulle ricchezze dello stretto eccetera. Questi sono i settori del prossimo futuro.